Buone vacanze, buona estate a Gossip News, un bacione. Io sto studiando recitazione, edizione, ho fatto anche qualche fiction, però al cinema, ci sono andata solo in un cinepanettone con Massimo Boldi due o tre anni fa, quindi ancora non ho avuto l'opportunità di fare un film. Noi ti conosciamo anche come ballerina. Beh, ballerina, mi hanno provato ad insegnare a diventarlo, perché sì, ho fatto ballando con le stelle, ormai sono già passati tre anni, avevo 18 anni, insomma, dove mi hanno insegnato a ballare, quindi diciamo che nei latinoamericani e nei balli da sala me la cavicchio, ho imparato qualche passo, non è che sono ballerina adesso, assolutamente. Con il fidanzato, con i latinoamericani sei particolarmente bravo. Con il fidanzato, perché ho il fidanzato ballerino? No, però magari è andato a ballare. No, non è andato a ballare, no, non balla, sono fidanzata, ma il mio fidanzato non balla, anzi, no, non canta nemmeno.